C'è il progetto per la difesa della costa falconarese con un intervento totale di oltre 17 milioni di euro. Il progetto, uno dei più importanti per la difesa della costa mai eseguito nelle Marche, prevede solo per la zona di Falconara circa 8 milioni per la realizzazione di 6 scogliere a pettine della lunghezza di 100 metri ciascuna. L'intervento riguarderà precisamente la zona davanti all'ex Montedison e l'inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2024. Questo è un progetto che ha portato avanti il Ministero dei Lavori Pubblici, che risale al 2014, prevedeva già un ripascimento. L'unico problema era dove prendere i sedimenti per il ripascimento, perché sono tantissimi, un lavoro enorme. E noi abbiamo avuto questa intuizione di provare a prenderli dal fiume e su questo ci siamo riusciti. Importante è anche lo scavo dell'alveo del fiume Esino, che interesserà un tratto di 15 chilometri dalla Foce, da Iese a Falconara, dato che il materiale ghiaioso per il ripascimento della spiaggia di Marina di Montemarciano verrà prelevato proprio dal fiume, dove è stato accertato un sovralluvionamento. Dato che il materiale ghiaioso per il ripascimento della spiaggia di Marina di Montemarciano verrà prelevato proprio dal fiume, dove è stato accertato un sovralluvionamento. Sono stati fatti oltre 100 campionamenti per capire se era un sedime adatto ad essere portato nel lungomare. Fortunatamente questi carotagli sono andati bene, sono due anni che ci stiamo dietro come regione Marche, in questo caso. E quindi dal fiume Esino, dalla Foce fino a Iesi, per circa 12 chilometri saranno rimossi tutti i sedimenti che ci sono accumulati negli anni. Un'opera fondamentale per il territorio che agisce su due fronti, quello costiero e quello fluviale, permettendo di realizzare un progetto molto importante, come quello di un collegamento diretto tra i litorali di Falconara e Marina di Montemarciano, con la realizzazione di percorsi pedonali ciclabili.